Il Teramo ritrova il gol e la vittoria, ma non basta. La prevedibile vittoria del Mantua sul già salvo su Tirol condanne il diavolo all'appendice dei play-out con il Lumezzane. Gara d'andata in trasferta il 21 maggio, ritorno al Bonolis, sette giorni dopo. Al Lino Turina di Salò, il Teramo ha per la verità trovato contro un avversario con la testa già ai play-off. Il tecnico Sarena preserva energie in vista degli spareggi e lascia in panchina Ferretti, Staiti, Guerra e Gambaretti affidandosi al giovane Luque in attacco con Gerardi e Bracaletti. 4-3-3 per Ugolotti che ripropone Spighin e Mediana con Amadio e Ilari. Di Paolo Antonio, Frattangelo e Sanzovini, tresso offensivo. La gara è subito nelle mani del Teramo che fa possesso palla ma fa fatica a creare palle-goli importanti. Illude, peraltro, l'iniziale gol del su Tiroli in casa del Mantua. Neanche il tempo di immaginare una salvezza diretta che i virgiliani ribaltano il risultato. Nel frattempo il Teramo ha con Sanzovini la palla gol migliore del primo tempo, al 17esimo, suo assist di Di Paolo Antonio. La resistenza dei Leoni del Garda è flebile, Gerardi prova vanamente a farsi vedere alla mezz'ora. Nel finale di frazione il Teramo prova con un'altra accelerazione ma senza effetti. Dopo l'intervallo Ugolotti lascia negli spolatoi il diffidato Ilari e inserisce Baccolo che risulterà il match winner. Poco dopo dentro anche Barbutti per Fratangelo e poi Carraro per Spighi. Sanzovini è in leggero ritardo sul traversone di Di Paolo Antonio. Il Mantua sigla il terzo gol e chiude la sua gara. È chiaro che il Teramo gioca per la posizione nella griglia play-out. Caglioni non è perfetto sulla rasoiata di Carraro. Le offensive terramane trovano felice epilogo al 27esimo sugli sviluppi di una punizione. Carraro apre per Speranza che centra il rompebaccolo che in due tempi batte Caglioni. Primo gol biancorosso per l'ex Catanzaro e Teramo che ritrova la rete dopo 445 minuti. La giocata di Sanzovini invece dopo la mezz'ora dice che per il sindaco questo non è un momento favorevole. Raddoppio sferato e gara che non muta più risultato. Per la Feralpi girandola di cambi ma prestazione che resta al piccolo trotto in attesa del primo turno di play-off domenica prossima in casa della Reggiana. Per il Diavolo ora due settimane di attesa logorante prima di giocarsi salvezza e stagione in 180 minuti. Grotti intanto è soddisfatto della prestazione? Sì sì no no ma io sapevo che i ragazzi avrebbero fatto la prestazione facendo sempre fatica perché è normale che abbiamo tenuto benissimo il campo abbiamo cercato di fare la partita contro una squadra che probabilmente aveva la testa anche altrove perché bisogna riconoscere anche questo però questo è il nostro atteggiamento le difficoltà le abbiamo palesate anche oggi per fortuna siamo riusciti a fare gol. Alla fine c'è un po' di rammarico perché se andiamo a vedere il percorso soprattutto delle ultime due partite abbiamo lasciato per strada quei punti che oggi potevano essere loro. Sarà Lumezzane nel play-out una squadra abituata a lottare e a lottare anche attraverso i play-out. Vi può preoccupare questo aspetto o il termo va avanti per la sua strada? No, noi andiamo avanti per la nostra strada consapevoli della nostra forza questa è una squadra che nella mia gestione ha fatto 20 punti ha fatto di conseguenza quanti ne aveva fatti quando l'ho presa abbiamo una media gol bassa però non prendiamo mai gol abbiamo una buonissima posizione classifica dobbiamo guardare i lati positivi, cercare di lavorare, rispettare l'avversario perché in due scontri tutto può succedere però siamo consapevoli che probabilmente se giochiamo così con questa concentrazione è difficile farci gol e dobbiamo essere più bravi a cercare di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto oggi. La differenza quest'oggi l'hanno fatta le motivazioni? Beh, indubbiamente quando si arriva alla fine sapete perfettamente che si trovano delle squadre anche dallo schieramento che ha avuto il Feralpi è normale che ci sono stati alcuni, ha fatto giocare molti giocatori questo non significa che chi ha giocato ha giocato sotto tono anzi, sicuramente noi dovevamo vincere, cercavamo di vincere purtroppo gli altri risultati uno non ci ha dato ragione e di conseguenza abbiamo fatto la prestazione e quello che dovevamo fare. Sanzovini troverà il gol decisivo nei play-out anche oggi ha cercato la via del gol, ha fatto belle giocate però il gol non sembra arrivare per quanto gli riguarda sono momenti che per gli attaccanti, lei che è stato attaccante insomma sa bene che ci sono. No, ma io non sono uno che scaglia assolutamente perché avendo fatto l'attaccante so perfettamente che ci sono le annate in cui come ti giri trovi l'incrocio dei pali e deve essere la squadra che aiuta. Noi, non ripeto, abbiamo trovato sicuramente dei grandi difensori un grande assetto difensivo perché è difficile farci gol e le statistiche lo dimostrano e lì aiutiamo tutti perché ripieghiamo tutti siamo compatti quando stiamo bene tutti e di conseguenza dobbiamo solo ed esclusivamente pensare che quando entriamo in possesso di palla di liberare un po' la mente e di aiutare un pochettino più gli attaccanti perché tante volte mi rendo conto che sono anche un pochettino isolati però abbiamo provato, oggi abbiamo cambiato nell'arco della patrita tre moduli di gioco, di conseguenza troveremo questa soluzione prima o dopo per cercare di venire fuori da questo campionato. Oggi hai ritrovato anche Baccolo imparato Baccolo è andato in gol, è imparato e ha giocato l'intera partita erano giocatori che erano stati poco impiegati negli ultimi tempi e oggi hanno dato delle buone risposte. No, sono contento, sono contento perché aveva imparato aveva avuto dei problemi soprattutto fisici poi avevamo trovato, è normale che un allenatore quando trova una squadra che in fase difensiva ha su cinque partite e zero gol, cambiare un giocatore può cambiare molte volte ti scervelli per dire perché devo cambiare per il semplice motivo di accontentare qualche dune e via dicendo e tutto. Oggi c'era l'esigenza di avere un pochettino più di spinta sulla fascia perché sono due caratteristiche diverse tra lui e Sales sono contento anche di Baccolo ero indeciso fin dall'inizio se farlo giocare pure no e poi ho optato per un'altra soluzione però è entrato molto motivato e sono contento è un'arma in più che abbiamo. In previsione quindi dei play-out si affronterà l'Umezane, la prima contro la squadra Briscione in trasferta. Sì, sappiamo perché non è il primo play-out che faccio di conseguenza so perfettamente che ci sono delle insidie dietro l'angolo non dobbiamo sicuramente speculare sulla partita d'andata anzi cercheremo di andare a Lumezane e di vincere la partita perché non si può su due partite cercare di speculare sul fatto che prendiamo pochi gol è vero, con due pareggi siamo salvi però questo è l'ultimo dei miei pensieri. C'è tanto rammarico però C'è tanto rammarico si potevano evitare se guardiamo il percorso che abbiamo fatto perché io devo guardare il percorso sotto la mia gestione 14 partite e 20 punti quando ho preso questa squadra aveva 20 punti ma le partite erano giocate erano molte non molte di più soprattutto abbiamo avuto forse anche sbagliando qualche cosa perché poi uno deve fare anche un mia colpa per trovare un determinato assetto forse il periodo che abbiamo giocato con i tre difensori eravamo poco propositivi e lì sono venute tre sconfitte che potevano ammazzare chiunque poi abbiamo avuto la testa di rialzarsi con quattro partite e dieci punti e poi quel maledetto gol preso a sei minuti dalla fine con la Reggiana sembrava quasi che ci avesse un pochettino stordito detto questo anche alcuni episodi ci hanno detto male se andiamo a vedere il gol annullato a Macerata se andiamo a vedere l'occasione di domenica scorsa alla fine se vai a vedere sono quei due punti che ci sono mancati che potevamo sicuramente avere l'ottimo lavoro della squadra perché questa è una squadra che si è resa conto secondo me è una squadra che partendo dall'inizio tutti assieme torno a ripetere cambiare dieci giocatori forse non lo dico ma forse cambiare dieci giocatori al mercato di gennaio non è stata forse una cosa positiva non so per quale motivo e via dicendo tutto io ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare poi abbiamo avuto dei problemi con qualche d'uno perché è normale che quando un allenatore trova un determinato assetto fa delle scelte e molte scelte probabilmente da qualche giocatore non sono state condivise però alla fine è un gruppo che lavora e quando si lavora si ottengono poi i risultati adesso dobbiamo fare l'ultimo passo Bacolo è arrivato anche il gol che vale per il morale vale in parte per la classifica anche se non basta per la salvezza beh sì sicuramente l'obiettivo era quello di salvarsi non quello di far gol purtroppo non ci siamo salvati però dimentichiamo subito quello che si sperava prima e focalizziamoci subito sui prossimi due delicatissimi incontri ecco non hai trovato molto spazio quanto è importante per te anche moralmente in vista delle prossime due partite questo gol quanto ti può rimettere in carreggiata no? ma sicuramente quando non si gioca non si possono trovare le convinzioni e la condizione che tu avresti giocando per me è importante sì sicuramente credo che non giocare tanto ti faccia salire una rabbia in più che dopo quando vieni chiamato in causa devi mettere in campo ci sono stati tre cambi di tecnici in questa stagione Ugalotti cosa vi ha dato di più o cosa ha cambiato in voi? ma credo sicuramente che il fatto di subire così pochi gol sia una cosa molto importante soprattutto in questa in questa categoria purtroppo da quando sono arrivato io abbiamo fatto tutto un giro di ritorno rincorrere e quindi non è mai facile non abbiamo mai messo la testa fuori dall'acqua e quindi purtroppo non subire gol a volte non è bastato per fare i punti che servivano senti Lumezzane è un osso duro più che altro per il fatto che è una squadra abituata a lottare per la salvezza Sì adesso noi abbiamo in play out due partite contro la stessa squadra contro una squadra che sicuramente farà dell'agonismo il proprio motivo insomma il proprio credo io sono convinto del fatto che noi siamo più forti di Lumezzane quindi dobbiamo pensare che per noi sarà farà la differenza tra calcisticamente parlando la vita e la morte e sono sicuro che non usciremo vincitori Lumezzane è uno di quegli avversari che avreste voluto incontrare? Credo che faccia poca differenza sinceramente credo che il fattore discriminante siamo noi sia la nostra squadra chi incontriamo dopo non è fondamentale non fa così la differenza penso che se noi ci esprimeremo al 100% e ci caleremo nella realtà che siamo per andare a vivere il più sarà fatto si aspetta chiaramente di trovare più spazio in questo momento io voglio dare il mio contributo ma detto questo l'unica cosa che conta adesso è salvarsi veramente non conta più chi conta il gruppo conta che chi non gioca aiuti chi gioca e basta uscirne insieme importante non farsi fuorviare dal fatto che con due pareggi il Teramo è salvo perché sarebbe il modo peggiore di approcciare certo noi dobbiamo pensare che se fossero due preti di campionato dobbiamo fare 6 punti dobbiamo pensare a vincere entrambe grazie grazie grazie